Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla FIPILI. In A1 in direzione Bologna, chiusura ai mezzi pesanti di massa superiore a 7,5 tonnellate del tratto tra il bivoco la variante di valico Baccheraia e Aglio. Per lavori di potenziamento del tratto Firenze Sud incisa, stanotte in orario 22,6 sarà chiuso lo svincolo di Firenze Sud in entrata verso Bologna e in uscita provenendo da Roma. A Firenze i lavori di messa in sicurezza e ripristino del muro crollato in via delle Bagnese termineranno nel fine settimana, riapertura della strada prevista per lunedì 28 marzo. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!